Buongiorno Dalido, pensavate o speravate che quella di ieri fosse l'ultima puntata dell'anno, invece no, sono qua anche oggi per quella che sarà certamente l'ultima puntata dell'anno perché la settimana prossima non ho intenzione di fare buongiorni, quindi vi beccate anche questa. L'introduzione ora la chiudo qua perché ci sono tante news interessanti da fare, non sarà la puntata delle news più belle e importanti del 2023, no, puntata normale. Ho delle cose da dire su Apple e Microsoft, quindi andiamo sul mondo corporate e sono abbastanza cicciose, quindi chiudiamo qua e andiamo subito alle news di oggi. Allora, per quanto riguarda Apple parlo di una vicenda che in realtà è un po' di giorni che va avanti, riguarda soprattutto gli Stati Uniti, quindi magari a noi utenti europei è un po' sfuggita, passata in secondo piano e ci sta. Ma è una vicenda che per Apple è abbastanza importante, abbastanza grave, ecco, perché riguarda lo stop alle vendite di Apple Watch Serie 9 e Apple Watch Ultra 2, quindi gli ultimi modelli appunto di Apple Watch. E per riepilogare un po' tutta questa vicenda parto dal 18 di dicembre, quindi un articolo di qualche giorno fa su 9to5Mac, poi invece mi appoggio a The Register che ha coperto molto bene tutta la vicenda. Allora, partiamo dicendo che Apple interromperà le vendite di modelli Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti, questo si riferisce soltanto al mercato statunitense, per una sentenza dell'ITC, che è l'International Trade Commission, una sentenza del 26 ottobre, che è relativa a una disputa sui brevetti con la Massimo Corporation. Io la pronuncio Massimo, non penso che sia così, o Masimo? Masimo? No, penso che sia Massimo. Comunque Massimo Corporation è un'azienda che fa dispositivi medici. Allora, c'è un periodo di revisione presidenziale, si chiama, c'è un periodo in cui il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, può mettere un veto su questa sentenza, scade il 25 dicembre, questo periodo. Al momento, quindi, con questa decisione dell'ICT, la vendita di questi modelli è proibita, però solo i modelli che hanno un sensore di ossigeno. Quindi l'Apple Watch SE è appunto escluso da questo ban. Vado su The Verge per vedere un po' i dettagli del perché c'è questo ban alla vendita. Allora, Massimo accusa Apple di utilizzare la tecnologia brevettata di ossimetria del polso, quindi l'SPO2, che è quella per rilevare appunto i livelli di ossigenazione del sangue. Apple utilizzerebbe questa tecnologia senza il permesso di Massimo, a seguito di una partnership mancata, appunto, tra le due aziende e l'assunzione da parte di Apple di ingegneri di Massimo. Ora, Apple può fare appello, può chiedere o aspettarsi, insomma, il veto presidenziale, può rinegoziare con Massimo, oppure può intervenire via hardware, modificando il design degli Apple Watch, o via software, cercando di, appunto, impedire l'uso di questa tecnologia. Ora, la funzione SPO2 non è essenziale per le funzionalità di Apple Watch, però senza questi sensori Apple potrebbe perdere una funzione che vorrebbe introdurre in seguito. Infatti c'è una filestrella sulla news di The Verge che si chiede se questi sensori siano importanti. Bene, pare che siano importanti per la rilevazione dell'apnea notturna, che è un ufficio su cui Apple sta lavorando e vorrebbe introdurre sui futuri moderni. Bene, senza questo sensore sarebbe molto più difficile introdurla. Quindi questa sembrerebbe essere, diciamo, la perdita principale che riguarda il futuro delle vendite di Apple Watch per Apple. Poi sappiamo che Apple ha provato a chiedere a ITC di sospendere il divieto di vendita, ma non ce l'ha fatta. ITC ha negato questa richiesta e quindi la vendita deve essere sospesa. A questo punto gli Apple Watch Serie 9 e Ultra 2 saranno disponibili fino al 24 dicembre e il divieto di importazione entrerà in vigore il 26 dicembre. Ricordo comunque che questo divieto è valido solamente per gli Stati Uniti. E in un articolo di ieri si parla proprio della rimozione della vendita dei due smartwatch di punta. Quindi non è più possibile acquistare dal sito di Apple, dall'Apple Store, i due smartwatch insomma top di gamma. Questi orologi saranno disponibili nei negozi fisici di Apple fino al 24 dicembre e presso degli altri rivenditori fisici come appunto negli Stati Uniti, Walmart e Best Buy fino a esaurimento scorte. E c'è un'altra conseguenza importante del divieto delle vendite che è l'impossibilità per Apple di fare riparazioni fuori garanzia. Quindi queste riparazioni per i modelli che hanno l'SPO2, quindi escluso il modello SE, non sono disponibili durante tutto il periodo di divieto. E siccome l'SPO2 è integrato a partire dall'Apple Watch serie 6, ecco che il 6, il 7, l'8, insomma tutti i modelli fino all'Ultra 2, non si possono riparare per due di quelli che non hanno più la garanzia Apple. Perché ovviamente su questi Apple guadagnano, costa farsi una riparazione fuori garanzia. Apple non può vendere questo genere di prodotti e neanche questo genere di riparazioni. Quindi anche la riparazione degli Apple Watch fuori garanzia non sarà più possibile. E questa è un'altra conseguenza importante di questo divieto. Rimango in ambiente Apple per due notizie non strettamente correlate ai Watch, ma comunque nella galassia della mela. Parlo di Vision Pro, trovo una news su The Stack che parla di Apple Vision Pro, ve lo ricorderete, il visore per realtà aumentata e realtà virtuale di Apple. Ci sono previsioni su quando sarà in vendita e si prevede che sarà lanciato proprio i primi mesi dell'anno prossimo, giusto in tempo per, se volete fare un regalo di San Valentino piuttosto costoso. È già in produzione di massa in Cina e dovrebbe appunto essere disponibile circa da fine gennaio. Però solo per gli Stati Uniti, quindi ecco, o lo importate o avrete difficoltà. Se non vi ricordate che cos'è, c'è un piccolo riassunto su The Stack di che cos'è Vision Pro, che è appunto un dispositivo di realtà aumentata e virtuale di fascia piuttosto alta, perché ricordo che costa 3.500 dollari, è destinato principalmente al settore aziendale e, che ne so, a quelli che vogliono crearci dei contenuti su internet. E Tim Cook, c'è una sua affermazione, dice sarà il primo prodotto Apple attraverso cui guardare, non su cui guardare. Questo è un marketing di altissimo livello. Comunque, questo prezzo altissimo, secondo Apple, riflette l'orientamento verso le aziende di questo genere di prodotti, di questa fascia. Infatti si rumoreggia già una versione più economica di Vision Pro, che si chiamerà Vision. E in ultimo trovo su ItsFoss una news relativa a Fedora Asahi Remix 39. Asahi Linux, sapete che è quel progetto di Linux sui Mac ARM? Ebbene c'è Fedora Asahi, che è una distribuzione Linux basata su Fedora 39, disponibile appunto per i dispositivi Mac con Apple Silicon. Quindi c'è un supporto più o meno su MacBook Air, su Pro Mini, su Studio, su Mac, insomma su quelli che hanno appunto ARM. Remix 39 viene come desktop environment principale con KDE Plasma 5.27, c'è in alternativa la possibilità di GNOME 45, entrambi comunque di default e con supporto completo per Wayland. Una cosa tra l'altro da notare è che l'installazione non segue il metodo classico di installazione di Linux, ma si deve fare da macOS lanciando uno script interattivo, insomma che si occupa poi di ridimensionare le partizioni e installare appunto Linux. Si deve scaricare con, si urla e eseguirlo con SH dal sito di Fedora Asahi Remix. E dicevo che volevo parlare anche di Microsoft, quindi ho qualche cosa da dire anche su Microsoft. Si parla su The Stack della End of Life di Windows 10, perché Microsoft terminerà il supporto a Windows 10 il 14 ottobre 2025, quindi fra un paio d'anni. Ma da una ricerca della società di analisti Canalist si stima che circa 240 milioni di PC non saranno più compatibili con Windows 11 e questo potrebbe portare insomma a un elevato numero di scarti, di rifiuti elettronici. Ora, secondo quest'articolo ci sono dei metodi per riciclare naturalmente questo genere di dispositivi come ricondizionamento, rivendita dell'usato, oppure anche la donazione di questi PC a enti caritatevoli eccetera. Che però è una cosa che solleva un po' di domande dal punto di vista etico, no? Perché dovremmo fare in modo che le comunità più svantaggiate abbiano accesso completo a tutto lo stack tecnologico e a tutte le ultime feature, non soltanto prodotti non più mantenuti, scaduti, mettiamola così, no? Fortunatamente, nell'articolo però non è menzionato, noi sappiamo che esiste un'alternativa per rivitalizzare dei device non più supportati da Windows. E rimanendo su The Stack ho trovato anche una news che riguarda Microsoft e la realtà aumentata e virtuale, perché Microsoft ha annunciato che non supporterà più il suo sistema Windows Mixed Reality, che è appunto il suo sistema per realtà aumentata e realtà virtuale, ARVR. Quindi dopo sei anni di tentativi di Microsoft, insomma di imporsi nel mercato della ARVR, Microsoft decide di ritirarsi completamente. Tra l'altro si pensava che dopo l'acquisizione di Activision Blizzard, che è un colosso del mondo dei videogiochi, acquisizione che a Microsoft è costata tantissimo, perché è costata 68 miliardi di dollari, e tra l'altro un procedimento lunghissimo per convincere tutte le varie commissioni antitrust che questa acquisizione dovesse andare in porto, insomma, una volta riuscito questo si pensava appunto a un impegno ancora maggiore nel settore dei videogiochi per desktop e per realtà virtuale. Ma in realtà per ora pare che questo deal sia principalmente rivolto al mobile, perché in Activision Blizzard c'è anche King, che sono degli enormi produttori di videogiochi per mobile. E fa notare l'articolo di Death Tech, mentre Microsoft si ritira, proprio i suoi più acerri rivali, cioè Apple e Meta, continuano invece a investire e sviluppare nei dispositivi di realtà aumentata. Quindi è un mercato che dovremmo vedere un po' come andrà. Per vedere un po' di approfondimenti sono andato su UploadVR, che è invece un magazine proprio specializzato nella VR, e quindi si sa che il supporto terminerà il 1 novembre 2026 per i consumatori e il 1 novembre 2027 per i clienti commerciali. Quindi tutti i dispositivi esistenti, nel caso ne aveste uno, tipo dispositivi Acer, AH101, altri dispositivi Acer, Asus, Dell, l'HP Reverb, Reverb G2, il Samsung Odyssey, ecco tutti questi dispositivi continueranno a funzionare con anche Steam fino a quando Windows sarà aggiornato con una versione che non includerà più il software Windows Mixed Reality. E tra l'altro, dopo il 1 novembre 2026, non sarà più possibile scaricare l'app Mixed Reality Portal e neanche i driver SteamVR, che sono poi necessari al funzionamento di questi dispositivi. Ho solo nella parte di links, ma vi devo dire questa cosa eccezionale, vi devo consigliare di vedere una cosa abbastanza incredibile, è un musical di 90 minuti circa, creato per promuovere Windows XP in Israele, quindi all'inizio degli anni 2000, Microsoft aveva commissionato la produzione di questo musical, che è riciciato fuori su YouTube, Microsoft aveva cercato di insabbiarlo, ora chi sta guardando il mio podcastino vede in sottofondo qualche frame di questo incredibile coso. Ecco, questo evento che Microsoft aveva fatto era quella categoria di musical industriali, che era una cosa che le aziende facevano, commissionavano per promuovere i prodotti, era una cosa popolare negli anni 50 e negli anni 80, insomma ha iniziato ad entrare in declino, però per qualche motivo Microsoft, per promuoversi in Israele, promuovere il lancio di Windows XP in Israele, lanciò questa roba. Tra l'altro il musical includeva delle canzoni abbastanza imbarazzanti, come quella sull'email, che aveva un allegato pesante, ma non necessitava più di compressione, grazie alle nuove funzionalità di Windows XP. Insomma, Microsoft poi aveva preso le distanze da questa roba, aveva rimosso le riprese ufficiali dal suo sito, aveva cercato l'oblio per questo video, per questo evento, ma per qualche motivo è ricicciato fuori su un canale YouTube che si chiama UsesTheName, che penso che sia stato creato appositamente per questo evento, ha 36 iscritti, comunque se vi interessa, prima che Microsoft se ne accorge e lo faccia rimuovere, andate su questo video, questa volta sì ve lo lascio il link in descrizione di questo video, così potete andarvelo a vedere nella sua intierezza e nella sua bellezza. Ma il secondo link che vi lascio oggi invece è un pochino più serio, perché è un articolo che appare su The New Stack, che si intitola A Zero Trust Approach to Multicloud Security. Quindi andiamo nel cloud ed è una piccola introduzione, per chi non conosce il paradigma, l'approccio denominato Zero Trust, è una buona introduzione, secondo me, per prendere familiarità con alcuni concetti chiavi. L'approccio Zero Trust è ormai un'architettura dell'accesso alle informazioni, della cyber security fondamentale per l'applicazione in cloud, quindi per chiunque, se siete cloud engineer ovviamente dovreste già conoscerlo, ma comunque se siete entrati appena adesso nel mondo dei DevOps o se siete degli sviluppatori software, sapere quantomeno le terminologie a che cosa si fa riferimento quando si parla di Zero Trust è fondamentale. Quindi inizierei da questo articolo, è apparso recentemente appunto su The New Stack, ripeto il titolo, A Zero Trust Approach to Multicloud Security, tra l'altro è un articolo sponsorizzato, creato da Synopsys. E quindi ecco, vi da una buona introduzione, ve lo consiglio. Ho finito davvero qui, grazie per avermi seguito anche oggi e anche quest'anno, che abbiamo raggiunto tra l'altro degli ottimi risultati, sono super contento, spero che siete contenti anche voi di questo prodottino che porto quasi tutti i giorni. E adesso davvero un calorosissimo a voi e famiglia, perché non ce li vediamo fino alla fine dell'anno, quindi torneremo a gennaio carichissimi e frizzantissimi con le nuove news che magari recupereremo da questi ultimi giorni dell'anno. Fate i bravi, mangiate molto bene, bevete responsabilmente, giocate alle tombole e ai giochi di Natale e noi ci vediamo l'anno prossimo. Ciao! Ciao!